Entrando qui alla Certosa si sperimentano tutte le declinazioni della bellezza. La prima sensazione che uno prova entrando qui nella Certosa è mamma mia mi sento talmente piccolo. Qui la bellezza come qualcosa che ti trascende. Gli apazie cosa sono? Sono luoghi di bellezza, sono luoghi di silenzio, sono luoghi di contemplazione, sono luoghi mistici. Dove la bellezza viene declinata in tante forme e in tante espressioni. Conservatelo, questo luogo, che non è solo memoria. Questo luogo è, come dire, può essere le fondamenta di ciò che noi pensiamo debba essere il mondo del futuro e di ciò che noi pensiamo possa essere una realtà che appartiene a tutti. A questo punto direi non appartiene solo all'Europa, appartiene a tutto il mondo. Grazie. 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 Grazie.